Ciao a tutti amici, oggi mi hanno mandato un'email dicendomi che in questo video si vede la figura di una bambina nel mio giardino con la porta sbarrata e infatti anch'io veramente mi sono scerverlato tutta la mattina per capire come cavolo ha fatto entrare una bambina con la porta chiusa e adesso vi ripropongo questo video con dettagli però se volete vedere il video originale cercate Mirko Jax diretto in casa ed è il 2008 febbraio ecco qua sto facendo vedere il giardino la porta per il momento del recinto è chiuso non c'è nessuno non c'era nessuno a casa mia adesso la apro per andare davanti però ritornando la chiudo e vi faccio vedere anche il passaggio ecco adesso sto per entrare chiudo la porta col lucchetto nel video originale potete vedere anche il rumore della chiusura poi dopo entro sto per entrare in casa attenzione adesso che sulla destra si vede una bambina passare eccola tra l'altro ce n'è anche un'altra ce ne sono due però ho pensato subito che la seconda è un riflesso di questo occhio di pesce però adesso rivediamo la sequenza in questione con maggior dettaglio questa è la mia casa molto bella eccola passa anche se l'altra non sembra proprio un riflesso ecco ecco un dettaglio si vede meglio sembra una bambina in costume con i capelli castani eccola eccola questo fa più un mix factor eh attenzione adesso subito ingrandimento buon Halloween comunque adesso vi faccio vedere il trucco erano quei due cose che stavano lì che devo dire anch'io c'erano cascato all'inizio dicevo ma che cavolo è allora per il momento è tutto ciao a tutti uuuuh eccola ecco lì ai Grazie a tutti